Elisa Lapaglia, Assessora alla Salute, lanciamo un concerto importante per sensibilizzare la popolazione di Verona. Sì, si rinnova quest'anno per la seconda edizione un importantissimo concerto di raccolta fondi a favore delle cure palliative pediatriche e dell'età adulta. Quindi è davvero un'importantissima sinergia con le aziende sanitarie del territorio, oltre che col terzo settore e con i tanti sponsor che hanno partecipato, ma possono partecipare anche i singoli cittadini, partecipando al concerto di venerdì 6 dicembre. Vi aspettiamo, c'è ancora qualche posto, dall'anno scorso si sono raccolti oltre i 15.000 euro, quindi abbiamo veramente bisogno dell'aiuto di tutti, di una grande squadra, perché sono servizi che sostengono fortemente le famiglie nel momento del bisogno. Federico Martinelli, presidente dell'Associazione Culturale Quinta Parete. La musica si fa solidale. Sì, un nuovo concerto che riprende le finalità di un evento che già l'anno scorso tenemmo in gran guardia. Quest'anno 21 artisti a raccontare e a sostenere le attività della Rete Veneta delle cure palliative pediatriche e dell'adulto, con un intento di far conoscere queste attività, ma anche di raccogliere fondi. Quindi, musica per fare del bene.